Che vuoi? Amici 17, Maria De Filippi criticata pesantemente, ecco da chi. Gossip news, giungono critiche per la conduttrice di Amici, ecco il motivo. Eccoci con un nuovo appuntamento che riguarda Maria De Filippi. Video, i. Presentatrice di numerosi programmi televisivi, la moglie di Maurizio negli ultimi giorni è stata pesantemente criticata. La sua professionalità raramente viene messa in discussione ma a quanto pare qualcosa ha penalizzato la donna. Scopriamo insieme cosa è accaduto. Perché sono stati puniti i ragazzi di Amici?. Negli ultimi giorni, Cancelletto Maria De Filippi è stata criticata a seguito della punizione data ai ragazzi di Amici. Sia al biondo che ad altri tre giovani, come abbiamo visto sabato scorso, è stata tolta la maglia della scuola. I partecipanti, durante i festeggiamenti in casetta, in onore del compleanno di uno di loro, pare abbiano fatto troppo casino disturbando il vicinato. A far arrabbiare i professori, ma in particolar modo la maestra Celentano sembra essere stata la presenza addirittura di alcolici. Inoltre, il giorno seguente durante le lezioni, pare si siano presentati in pessime condizioni. Per tale ragione, dopo una breve riunione tra insegnanti, si è deciso di sospendere momentaneamente i futuri professionisti e mandarli a raccogliere la spazzatura per le strade di Roma, come punizione. Amici, una punizione trasformata in gogna mediatica?. Dopo aver confermato ai ragazzi la loro punizione, Maria è stata criticata sui social e non solo, video, a parlare è stato un giornalista del Corriere della Sera, Tommaso Pellizzari. Secondo la sua opinione, Quehen Mary avrebbe esagerato con la punizione agli allievi in quanto nessuno si è mai chiesto se davvero ne avesse diritto. Per molti, tale atteggiamento potrebbe essere stato utilizzato solo ed esclusivamente per alzare gli ascolti del programma e non per dare un vero esempio. Inoltre, Pellizzari non trova giusto che i tre giovani in questione siano stati umiliati davanti a milioni di telespettatori, soprattutto perché si tratta di semplici errori di adolescenti. Lo stesso pensiero è stato espresso anche da un altro giornalista del Quotidiano Libero, che ha definito Maria un genio dello spettacolo, trovando la sua mossa davvero innovativa. Cosa replicherà la moglie di Maurizio?. Nellattesa del serale che partirà prossimamente, per gli appassionati del programma ricordiamo il consueto appuntamento di oggi pomeriggio in onda dalle 14.45 su Canale 5. Al momento è tutto, non resta altro che aspettare nuovi aggiornamenti. Al prossimo episodio